Prima, 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 fai tutto prima! Beh, nel resto chi prima arriva meglio alloggia, chi prima arriva meglio mangia... Insomma, per dirti che se fai tutto prima qualcosa c'è sempre da guadagnare. Sì ragazzi, parlo del riscaldamento. Allora, in questo video qua ti parlavo del riscaldamento particolare, ma il riscaldamento muscolare è un'altra cosa differente. Quindi, prima di iniziare qualsiasi forma di allenamento, allora ti invito a fare almeno questi esercizi. Un attimo solo, che vi tolgo la pelpa che mi metto più comodo. Ok, e proviamo. Allora ragazzi, mi raccomando, le articolazioni le hai già fatte, vero? Qui comincia. Fai 10 in questo modo, quindi ne fai 10. Cerca sempre di attivare bene l'addome, non frettere la schiena. Tieni sempre l'addome alto, piega le gambe e sali. E ne fai 10 in questo modo. Riscaldata bene questa prima parte, ti metti giù e fai 10. E release, push up. Sali bene, giù, alzi le mani. Sempre addome stretto. Non fare in modo che fredde la schiena. Allora, fatto questo, ragazzi, da qui ti fai un 20 mountain climber. Ok, proprio lenti, attenta alla schiena, non la fai frettere. Tieni alta la schiena, quindi allineata quantomeno. Fatto questo, ti ciri, riscaldi anche un po' l'addome. Ti giù, dai su. Fai un po' di sit up. Ok, perfetto. Da qui, quindi, dovrebbe essere più o meno riscaldato questa zona. E poi tocca alle gambe. Fai un po' di camping jack. Bassi lani. Ne fai una ventina. O se ti fa piacere, fai a knees. Con i denti skip. Ok, e dopo di che ti lanci degli squat. Mi raccomando, sullo squat, questo è il video che ti aiuta a correggere la tua posizione degli squat. Oppure se hai qualche domanda, mi scrivi sotto. Fatto almeno una decina di questi. Fai una decina di affondi. Ok. Dopodiché, ragazzi, se non ti senti ancora sufficientemente caldo, ripeti almeno un'altra volta il corso di giro. Questo è tutto. Fatto questo, ragazzi, ovviamente poi il riscaldamento lo devi fare precisamente per le fasce muscolari che ti avrebbero combinare. O comunque per la tua prestazione. Quindi il riscaldamento lo devi poi mirare. Questo è più o meno generico, quel totapoli che ti permette di attivare la circolazione e i muscoli per essere pronti all'allenamento. Se hai qualche domanda, mi scrivi sotto. Se ti fa piacere, lascia il like per il coach e ti iscrivi anche al canale. Comunque noi ci vediamo al prossimo video. Allenati bene. Ciao!